Buongiorno a tutti, oggi andremo a vedere come importare delle semplici animazioni da Blender a Unity quindi come prima cosa sulla nostra scena di Blender andiamo a eliminare tutti gli elementi e a creare il nostro oggetto che vogliamo animare e poi andiamo selezionando nella timeline qui in basso il primo frame a aggiungere, premendo I all'interno del viewport quindi col nostro cursore all'interno della scena, premiamo I per aggiungere un keyframe con il quale andremo a salvare la posizione, la rotazione e la scala del nostro oggetto visto che sono le informazioni più importanti durante la nostra animazione facendo così vediamo che si è aggiunto questo pallino giallo che indica il salvataggio di queste informazioni a questo frame ci spostiamo nella timeline alla fine della nostra animazione e dopo aver spostato il nostro oggetto per esempio sull'asse delle X e magari con una rotazione di 45 gradi sulle Z andiamo a fare la stessa cosa aggiungendo un altro keyframe, quindi premendo I in cui salviamo sempre la posizione, la rotazione e scala e così vediamo che abbiamo ottenuto la nostra semplice animazione una volta fatto questo passaggio si può già importare su Unity il nostro file quindi andremo a fare export, è formato fbx e andiamo a salvarci questo cubo come cubo animato una volta fatto questo possiamo modificare le impostazioni questo file aveva già un nome quindi mettiamo cubo animato 2 possiamo modificare le impostazioni dell'export ma quelle di default vanno bene in questo caso con una sola animazione e facciamo export una volta fatto questo ci possiamo spostare su Unity qui adesso ho un progetto aperto di default e dal nostro manager degli asset andiamo a fare import new asset così che possiamo selezionare il nostro file che è chiamato cubo animato 2 una volta fatto questo vedremo che ci comparirà un prefab del nostro cubo che potremo importare all'interno della nostra scena possiamo vedere che però questo cubo è composto da due elementi, la mesh e l'animazione una volta fatto questo possiamo trattare la nostra animazione come se l'avessimo creata in Unity quindi avremo bisogno di un animator che dovremo aggiungere manualmente in questo caso al quale dovremo associare un animator controller che dovremo però crearci a parte quindi animator controller chiamiamo cubo controller e possiamo portare questo animator controller all'interno del nostro animator così che linkiamo questo oggetto a questo controller delle animazioni se noi poi apriamo l'editor del nostro animator controller possiamo importare direttamente l'animazione del cubo che diventerà il nostro stato di default una volta fatto questo tornando alla nostra scena e mettendo il nostro oggetto all'interno della videocamera e facendo play noi dovremo vedere il nostro cubo che si anima esattamente ora se notate abbiamo un problema che fa sì che la posizione del nostro oggetto venga praticamente resettata alla posizione in cui l'animazione è assolvata su Blender quando il gioco inizia se vedete è scattato in basso questo si può ovviare creando un semplice oggetto vuoto quindi di cui resettiamo la posizione sia di questo che del cubo e andiamo a imparentare il cubo sotto a questo game object che possiamo rinominare come cubo animato in questo modo quando noi sposteremo il nostro game object cubo la posizione del relativo oggetto animato verrà spostata di conseguenza adesso provo a fare un esempio con il cubo in alto e così vedremo che l'animazione non verrà più riportata al sistema di riferimento assoluto che era utilizzato in Blender ma sarà relativa alla posizione dell'oggetto parente questo è appunto il funzionamento per un'animazione singola per fare più animazioni in contemporanea lo vedremo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti